12 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altre 6 domiciliari. Quella si è stato con l'operazione Baginella 2 e un nuovo duro colpo al locale di Siderno governato dal clan Commisso, lo stesso che il pentito Polifroni, deponendo al maxiprocesso Olimpia, definì come un pachiderma dell'andrangheta. Il blitz è scattato all'alba di stamani ad opera dei finanzieri del gruppo di Locri e dello Scicco di Roma. Viene colpita l'andrina Rumbo Galea Figliomeni, appendice del clan Commisso, dedita in particolare alle estorsioni, all'usura e all'esercizio abusivo del credito, il tutto con l'aggravante delle modalità e delle finalità mafiose. Il blitz stamani scaturisce dalla prosecuzione del fenomeno investigativo, che nel novembre dello Scorsona aveva portato ad ulteriori arresti. Oggi come allora risulta ingente il patrimonio del clan sottoposto a sequestro, beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie, che sarebbero stati alimentati grazie soprattutto a vorticosi giri d'usura, con l'imposizione di un tasso fino al 120% anno. Questo è un indice della condizione psicologica disastrata in cui operano questi imprenditori, che si vedono negata a qualsiasi altra possibilità di accedere al credito, ha detto nel corso della conferenza stampa il procuratore Federico Caffiero De Rao, affiancato dall'Aggiunto Nicola Gratteri e dai vertici della Guardia di Finanza.